Dunque, per prima cosa, un concetto molto molto importante è il discorso che Henry Ford all'inizio del secolo ha detto che la produzione di massa cambierà il mercato del ventesimo secolo. In effetti questo è successo perché è stato proprio lui che ha concepito quella che era la linea di produzione, facendo cosa? Creando le automobili per tutte. Ora, il concetto del ventunesimo secolo è che la personalizzazione di massa farà lo stesso, vale a dire se prima era la produzione di massa, il pulcro del commercio, oggi è la personalizzazione di massa e voi ve ne accorgete perché state vedendo che tutto ciò che è personalizzato ha una fila totalmente diversa. Con i dati cosa si fa? Tramite la funzione di dati variabili che adesso vedremo proprio nel centro di tutto quanto, tramite VersaWorks, che in questo caso è al centro di tutto, cosa fa? Noi prepariamo una grafica e la prepariamo con il nuovo Illustrator, tutti i software di computer grafica, non possiamo far altro che andare a prendere dei dati da un database, VersaWorks sarà quello che li combinerà insieme creando dei documenti, uno diverso dall'altro. Questo è il fulcro del dato variabile, quindi la tua idea più le informazioni sul tuo cliente, qualsiasi tipo di informazione e VersaWorks ci consente di generare delle emozioni. Ecco, in questo momento sto condividendo lo schermo, quindi apro Excel. Chiedo conferma a Luca che se si vede Excel mi sta seguendo, perfetto, ok? Quindi continuiamo tranquillamente. Ecco, questi sono dei dati che io ho estrapolato dal forum, sono gli utenti del forum. Mettiamo il caso che vorrei creare un badge personalizzato per tutti gli utenti del forum. Bene, non ho bisogno di tutti i dati, capite che qui dal database del forum abbiamo una quantità di dati incredibile. A noi mettiamo il caso che ci serve il username, l'email, l'home page per esempio, oppure degli altri dati, in modo da poterli sistemare al meglio e ottimizzare per quella che è la nostra dato variabile da mandare in stampa. Per far ciò avevo ripulito in qualche maniera un gruppo di dati, non voglio farne tantissimi, giusto per accelerare un po' i tempi e ho messo in prima riga, faccio in modo di allargare un attimo la fonte in modo che la possiate vedere anche un po' meglio, una colonna con un nome molto molto importante. Il primo nome è un nome identificativo che mi servirà per definire l'area e quindi dove andrà a finire in questo caso il nickname. Ogni dato variabile dovrà essere contenuto in una colonna e vi consiglio in questo caso che abbia come inizio la definenza bdp, variable data print, poi un bel underscore e il nome di quello che è il dato variabile effettivo. Quindi il nome, nickname, nome, azienda, immagine. Ok? Per quanto riguarda l'immagine, in questo caso tiff, jpeg, pdf, cioè tutti i formati supportati da VersaWorks si possono inserire all'interno di questa colonna. Come vedete non ho messo quello che è l'indirizzo totale perché non c'è l'esigenza. Vi farò vedere dopo come poterla agganciare. Altro consiglio, dal momento in cui avete scritto e preparato il blocco dei dati, questo poteva provenire da qualsiasi file portato dai vostri clienti, un consiglio personale è quello di copiare quindi un bel ctrl c o un copia classico da windows e incollarli, attenzione, in un block notice perché questo tipo di operazione. In questo caso, pure che l'immaginazione la vedete un po' spasata in ogni caso avrete eliminato qualsiasi problema legato alla formattazione di Excel. questo è molto ma molto importante. Quindi potete tranquillamente salvare questo file con nome e nomi in modo nomi, quello che volete, in formato txt senza nessun problema. Questo è un consiglio personale, assolutamente. Altra cosa molto importante, ricordate se avete messo una maiuscola o meno, in quanto il campo del dato variabile è sensibile alle maiuscole. Quindi ricordiamoci, nickname, nome, azienda, immagine, quattro campi di dato variabile. Ok, adesso ritorniamo un attimo al nostro schema, nostro video, per passare al passo numero 3, ossia quello di preparare la grafica. Benissimo, ho già preparato una parte di grafica, solo quello che è il background, non ci sono ancora gli elementi dei campi dei dati variabili perché volevo costruirli insieme a voi. Come si costruiscono? Semplicemente definendo un rettangolo, vale a dire un rettangolo all'interno di quest'area potrà contenere quello che è il nome del nickname, per esempio. un altro rettangolo, messo un po' più in alto, potrebbe essere il nome e cognome reale del nostro artigiano tecnologico. Un altro rettangolo, qui in alto, potrebbe essere un rettangolo che definisce il nome reale. Quindi abbiamo nickname, nome reale e azienda da andare a sistemare. Vi ricordate? Anzi, ce n'è un altro che è immagine e in questo caso potrei fare un rettangolo su quest'area perché la voglio all'interno del logo. Bene, ma come farà il sistema a capire quale dato deve inserire dove? Ecco, la soluzione è molto semplice, sta nel fatto di andare a modificare, quindi andare a aggiungere dei colori sulle nostre tavolozze personalizzate. Ricordatevi, anzi questo ve lo dico per tutti coloro che utilizzeranno Core & Draw, di utilizzare il sistema delle finestre mobili del gestore tavolozza colore, lo riprendo un attimo così ve lo faccio vedere, eccola qua, in quanto la tavolozza che andremo a elaborare sarà quella legata ai colori personalizzati, ossia questa che è la UserIncCPM, ok? Che è quella che possiamo personalizzare. Qui sono su Core & Draw X5, quindi perfetto. Cosa faccio sulla tavolozza? Non faccio altro che andare a prelevare o aggiungere un colore. Il colore aggiunto a tavolozza avrà un nome specifico e potrà essere un qualsiasi colore da aggiungere a tavolozza, in questo caso ne ho aggiunto uno, vedete qui in fondo, e il nome da assegnare sarà VDP underscore nickname, come vedete con la N maiuscola. Aggiungo un ulteriore colore, eccolo qua, facciamo un altro verdino, aggiungo a tavolozza, un altro verdino, aggiungo a tavolozza, e un altro così sull'arancio, sull'arroncino, aggiungo a tavolozza. Quindi ho aggiunto questi altri colori qui in fondo, vedete il primo è VDP nickname, quest'altro lo rinominerò in VDP underscore azienda, quest'altro in VDP underscore nome, e per finire l'ultimo in VDP underscore immagine. Perfetto, ok, benissimo, dal momento in cui ho preparato questi colori da tavolozza su questa palette specifica, eccoli qua, non faccio altro che assegnare il colore del contorno per ogni campo che andrò a preparare. E quindi, se il primo è quello del nickname, quindi qua sopra andrà quello del nickname, non faccio altro che fare clic col tasto destro per dire questo colore è quello del nickname, quest'altro colore è quello del, mettiamo quello del nome, e qui sotto invece è quello dell'azienda. Perfetto, un cut contour per ritagliare tutto l'elemento, e ho preparato la mia grafica di base per il mio dato variabile, quindi esporto il badge, il badge di dato variabile, quello che è il file, e in questo caso avrò preparato un file per la stampa. Noi abbiamo appena aperto un file EPS, nel più o nemmeno come fate per qualsiasi lavoro che create per il nostro verso. Qual è la differenza? Al momento in cui entriamo nelle impostazioni del lavoro del badge, avremo sulla voce dati variabili, l'ultima che è trovata a sinistra, questa finestra di dialogo, con questo check che abiliterà la stampa dati variabili. Se non abilitate questo check, praticamente tutto ciò che avete fatto non serve a niente. posso anche visualizzare tutti i campi in modo da vederli al meglio. Bene. Ora, potete scrivere dati uno a uno da qui, ma ancora cosa più interessante è quella che abbiamo visto, di caricare il file generato, quindi il file di testo che avevamo preparato poco fa, nomi, cosa succederà? e voilà, automaticamente va a ganciarsi la prima riga con quella che aveva trovato nella grafica, tranne qualcosa che è successo di strano su sto lato. Vediamo subito cosa è successo. Innanzitutto, facendo clic sulla colonna, io posso modificare tutto ciò che riguarda quella colonna, quindi posso cambiare il corpo, posso cambiare l'allineamento, c'è tutto ciò il colore all'interno di quella colonna specifica. Quindi se faccio clic sul nome, cambierò tutto ciò che riguarda praticamente il nome, quindi che so, lo facciamo in corsivo, sempre allineato a sinistra, anche esso lo facciamo in bianco, per esempio. Bene. Azienda, allineiamolo nuovamente a sinistra, diamo un corpo più grosso, grossetto, cambiamo il colore in rosso, come vedete tutte operazioni molto semplici da fare direttamente dall'interno dell'interfaccia del dato variabile. Ok. L'immagine. Posso usare, devo usare la funzione sfoglia, in modo da andare a caricare dalla cartella appunto, dato variabile, archivio avatar, i file scaricati da quelli che erano gli avatar del forum. Ora, cosa succede? Come vedete, questa foto sembra più piccola dell'area che avevo riservato. Ecco, sempre se ho cliccato su tutta la colonna, io posso ingrandire e andare a spostare il campo del dato variabile che si sposterà simultaneamente su tutte le voci. Cosa ancora più carina è quella di usare la funzione traccia, su fondo bianco. In questo caso, ciò che è bianco diventerà praticamente il contenitore, un power clip, un clip impact. Cosa ancora più interessante, per ognuno io posso andare a modificare ogni singola riga. Per esempio, se Renzo Alzelmi, la voce non mi rientra all'interno della prima riga del nickname, potrei dare dimensione automatica in modo da farlo rientrare. E come vedete, mi apparirà con un colore diverso. Bene, una volta preparati questi dati, sul layout, ho già fatto, e ho già preparato, tutto quanto quello che serve per mandare stampa i nostri dati variabili. Grazie a tutti. E quindi, il risultato finale, abbiamo nostra stampa, in questo caso, sul termotrasferibile, quello che avete appena visto come stampa a dato variabile, ma nessuno ci vieta di fare delle piccole beggi, appunto, fatte con il vinilgetto stampato e tagliato, da mettere un po' quando si va in piera a far vedere a tutti. Ok, grazie a tutti ragazzi, di essere stati con noi, insieme a questo minicorso, il prossimo lo faremo assieme, ci siamo inventando delle cose ancora più interessanti. grazie tante e arrivederci, alla prossima.